Questo è interessante. Può essere la possibilità giusta. Sembra una buona possibilità in questo caso. Pallone interessante messo in mezzo. Sembra un buon pallone. Ottimo pallone messo in mezzo. Questo pallone non è male. Buon cross. Questo sembra un cross interessante. Ottimo cross. Sta per giungere a destinazione. Direttamente verso il compagno smarcato. Certo Marco, non riesco a immaginare un'occasione migliore di questa. Hai ragione Marco, questo sarà decisivo in tutti i sensi. Senza dubbio, entrambe le squadre hanno bisogno di portarsi in vantaggio e a prescindere dal risultato finale. Assolutamente, ci vorrà del tempo per riprendersi da uno shock simile. Sì, altrimenti potrebbe perdere l'attimo buono. Attenzione, questo rigore potrebbe decidere definitivamente l'incontro. Tensione alle stelle in questo momento. La tensione si taglia a fette. Non vorrei essere nei suoi panni in questo momento. Gran rigore, tirato con grande sicurezza. Se il portiere non si fosse mosso, il pallone sarebbe arrivato giusto fra le sue braccia. È stato un tiro non certo angolato, ma è stata una buona scelta a giudicare dal risultato. Ha buccato il portiere molto bene. Ha tenuto i nervi saldi in modo incommiabile. L'ha colpita in modo molto potente. Il portiere non ci ha potuto fare nulla. Due rigori, nessun gol. Questa è un'opportunità gettata alle ortiche. Mamma mia, l'ha alzata sopra la traversa. Non è riuscito a tenerla bassa. Che incubo! Impossibile da credere. Non riesce a crederci. Doveva essere ben più incisivo di quanto non abbia fatto. Ma scelta di tiro sciagurata del rigorista. Il portiere non è riuscito a leggere bene la situazione. Ha preso in giro il portiere con le sue finte. Sarà veramente difficile rimontare. Potrebbe essere troppo anche per loro. Questo metterà una pressione ancora maggiore sui giocatori incaricati di battere i prossimi tiri dal dischetto. La situazione si sta facendo emozionante adesso. Ha dato un'occhiata al movimento del portiere prima di tirare. Sapeva dove si sarebbe buttato il portiere. Ha tenuto i nervi salvi in modo incommiabile. Il portiere non è riuscito a deviare il tiro. È sempre più difficile per il portiere in queste situazioni. Sparare una cannonata centrale è una strategia molto rischiosa. Bene, direi che ha tentato ma il tentativo è fallito miseramente. Se scegli una soluzione simile e il portiere non si muove, fai la figura dello stupido. Il portiere ha avuto la meglio stavolta. Il portiere ha fatto un lavoro eccellente. Sembra quasi che il portiere sapesse dove sarebbe finito il pallone. Il portiere ha capito tutto perfettamente. Non certo un capolavoro, ma il portiere merita molti applausi per questo intervento. Certamente è un vero spreco. Un rigore davvero calciato male, ad essere onesti. Forse non è riuscito a sopportare il peso della pressione. Sembra quasi che non sia stato in grado di sopportare la pressione. Quando si calcia un rigore bisogna essere certi di dove si vuole calciare il pallone. È stato un buon tentativo in ogni caso. Ha tirato abbastanza bene, ma largamente fuori bersaglio. Tanta potenza, poca precisione, fuori. Ha proteso il colpo all'indietro al momento di calciare e il tiro è finito alle stelle. Penso che abbia calciato troppo forte. Pensavo fosse dentro. Veramente fuori di un soffio. Doveva mantenere l'equilibrio. Così proprio no. Ha spiazzato il portiere, ma il palo lo ha fermato. Il portiere era completamente fuori causa, ma lo ha salvato il palo. Il palo ha salvato il portiere in questa occasione. La mira è stata leggermente imprecisa e ha colpito il palo. È dentro! Gol! Questo gol che arriva in un momento cruciale dell'incontro potrebbe decidere molte cose. Bene, sono sotto di due gol. Dovranno assolutamente rimontare. Hanno pareggiato e adesso la partita diventa molto interessante. Hanno pareggiato ancora una volta. Molto emozionante. Che partita! Ancora in parità! Arriva il pareggio atteso a lungo e i tifosi impazziscono di gioia. Questa partita sta diventando una battaglia incredibile senza esclusione di colpi. Questo gol ha mandato in delirio i tifosi. Quando è sotto pressione dà il meglio di sé e lo ha mostrato anche questa volta. È stato veloce a sfruttare al meglio questa possibilità e ha regalato la vittoria ai suoi. Così ha risolto la partita nel modo più entusiasmante possibile. Sembra che mentalmente siano ancora negli spogliatoi. Che disastro! Devono svegliarsi in fretta oppure potrebbero subire una disfatta. Sarebbe il caso di riprendere la palla e di rimetterla in gioco straordinariamente brillante oggi. Nessuno riesce a fermarlo oggi. È scatenato da quando è iniziata la partita. Ricorderà la partita di oggi per lungo tempo. Ha sovrastato tutti in ogni zona del campo. Davvero incredibile! Che incredibile prestazione a tutto campo. Sembra in condizioni di forma straordinarie oggi. Non escluderei una tripletta dopo aver visto il modo in cui sta giocando oggi. È scatenato oggi! Sta giocando in maniera divina! Straordinario! È inarrestabile oggi! Wow! Questa sì che è una grande prestazione! Sta giocando da sogno! Che partita! Questo è quasi un record! Fantastico finale! Stiamo assistendo a qualcosa di veramente speciale oggi! Sai qual è il segreto per effettuare un buon tiro? Beh, adesso ha raggiunto proprio il top della forma. Sta confermando tutti i segnali emersi durante uno straordinario torneo. Ha acquisito sicurezza adesso ed è giusto così! Questo è un ritorno davvero incredibile. Sembra molto determinato. Con tutti questi gol messi a segno, ha la possibilità di essere il capocannoniere del torneo. Oh, hanno dovuto faticare per segnare questo gol! Ma il pareggio è arrivato nel momento migliore! Fantastico! Beh, Marco, è stata una bella scossa alla gara, visto che il gol è arrivato nel finale di partita. E a quello che ci voleva, Marco! Adesso entrambe le squadre cercheranno il gol con tutte le forze e ci sarà da divertirsi! Beh, tutto è tornato in parità adesso e la partita potrebbe... C'è stato molto equilibrio fino ad adesso e non vedo grosse differenze. Credo che questo gol darà nuova linfa alla partita. Vediamo quale sarà la reazione dei giocatori. Sono curioso di vedere se riusciranno a sfruttare il momento favorevole per mettere a segno un altro gol. Il gioco si fa duro adesso. Entrambe le squadre sanno che non possono... Adesso non possono più sbagliare. Qualsiasi errore può provocare un gol e compromettere la partita. Penso che nessuna delle due squadre si accontenterà di un pareggio. Sicuramente in queste situazioni i difensori sanno che non possono... Penso che questo gol darà alla partita la scossa che speravamo. Entrambe le squadre cercheranno di segnare il prossimo gol. Beh, sicuramente adesso la partita è tutta da giocare! Sì, questo spiega perfettamente perché l'allenatore abbia scelto di mandarlo in campo. Grande intuizione del tecnico, ha avuto effetti immediati. L'allenatore si prenderà i meriti per questo cambio azzeccatissimo. Sì, sono partiti alla grandissima! Sì, sembrano molto determinati oggi. Con un gol di vantaggio, penso che possano giocare in scioltezza il loro calcio. Ma giocare una partita di attesa non è nel loro DNA. Penso che è troppo presto per dire che la partita è chiusa. C'è molto tempo e gli avversari possono ancora recuperare. Beh, hanno avuto una grossa disattenzione difensiva. Cosa sta succedendo alla difesa? Stanno lasciando troppi spazi. Devono assolutamente riorganizzarsi. È stata una risposta incredibile. È veramente un match impossibile da pronosticare. Che tempismo per questo gol! Potrebbe essere decisivo. Sono stati molto fortunati a guadagnarsi il rigore e a cogliere il momento giusto per pungere. Era decisivo. Avevano assolutamente bisogno di segnare e lo hanno fatto al momento giusto. Era nel posto giusto al momento giusto. Semplicemente perfetto. Questa è una mazzata tremenda per gli avversari. È qualcosa che gli avversari non avrebbero mai dovuto fare. Che tragedia! Eccezionale! Veramente eccezionale! Beh, questa partita è stata molto emozionante ma non posso credere che finisca in questo modo. Con tutti questi stravolgimenti non riesco proprio ad immaginare cosa potrà succedere adesso, Marco. Partita incredibile! Devo ammettere che sono stati fortunati a pareggiare proprio nel momento decisivo dell'incontro. Questo è proprio quello di cui avevano bisogno. Hanno raggiunto il pareggio dal nulla! È un sogno che si realizza! Sì, entrambe le squadre stanno dando il 110%. Questo incontro è davvero impressionante! Si dice spesso che una squadra diventi vulnerabile e non appena segna e questo ne è un esempio perfetto. Qui sono stati puniti per la loro ingenità. Stavano ancora... Questo è stato un rigore perfetto! Gran rigore! Da manuale del calcio! È così furbo nei movimenti in area di rigore! È veramente difficile affermarlo, devo dire! Ha usato tutta la sua abilità oggi e potrebbe colpire ancora! Sembra davvero sicuro di sé e non c'è niente che la difesa possa fare per fermarlo! Sembra una partita senza unico ma penso che la differenza... Rimontare tre reti di svantaggio sarà ben difficile, credo! Beh, adesso giocano sul velluto! Sembrano molto sicuri di sé dopo aver segnato il secondo gol e non mi sorprenderebbe affatto se vedessimo altri gol! Non c'era niente che il portiere avrebbe potuto fare anche se non avesse colpito la traversa! Il portiere non aveva alcuna possibilità in questo caso! Il tiro ha subito una deviazione dopo aver colpito il palo il portiere era completamente fuori causa! Non c'era niente che il portiere potesse fare! Straordinario! Quando riesce a colpirla così bene è difficilissimo difendersi! Il merito è tutto del traversone! Quando arrivano in area palloni come questo la difesa finirà sempre sotto pressione! La precisione di questo spiovente è stata incredibile! Gran passaggio! Il cross è stato ottimo la conclusione è stupenda! Davvero meraviglioso! Effettivamente non era così facile ma quando hai il talento... Hai ragione Marco! Ha messo il pallone esattamente dove l'aveva... E l'ha colpita bene! Davvero molto bene! Bravissimo! Ha fatto! Ha mostrato tutta la sua classe nel controllare questo pallone e ha concluso l'azione con un tiro magnifico! Hai ragione! Pochi possono riuscire a contrastarlo! Coordinazione e tempismo perfetto! Colpo di testa straordinario! Beh, posizionamento perfetto in area di rigore Marco! Superbo colpo di testa! Era nel posto giusto! Un gran colpo di testa a schiacciare! Un bellissimo gesto atletico fatto con grande potenza! Sì, ma bisogna riconoscere che il merito è stato in gran parte dell'attaccante! Assolutamente strepitoso! Beh, ha superato il suo diretto marcatore prima di colpire la palla! Davvero impressionante! Hai ragione Marco! Ma non è stato soltanto il cross! C'è stato... Non c'era niente che potesse fare una volta che il cross era arrivato in area! Era troppo preciso! Certamente un pallone delizioso dalla fascia! Spedito con precisione alle spalle del portiere! Sì, si sono intesi alla perfezione in questo caso! Un gol dei più classici! Questi palloni tagliati e angolati non sono facili da stoppare! Il portiere avrebbe potuto intuire meglio il tiro, ma ha fallito! Conclusione comunque superba! Sì, sembra proprio che sia così! Hanno un'intesa assolutamente perfetta! Niente di speciale! Hanno fatto le cose semplici nella maniera più giusta! Fantastica conclusione! Certo, ha mostrato tutto il suo fiuto per il gol in questa occasione! Penso che lui soltanto sappia come ha fatto! È un movimento difficile da controllare per i difensori! Certamente uno dei migliori, Marco! Assolutamente, Marco! Ma ha scelto benissimo il tempo e l'ha colpita la grande! Che gran saggio di bravura! Soltanto una parola! Magnifica! Davvero un gran tiro! Sì, grande tecnica e superba esecuzione! Andrebbe bene per l'album delle figurine! Calciato in modo superbo! Ha lasciato il portiere di Sasso! Tutto è andato esattamente come si aspettavano, penso! Sì, Marco! La difesa non sapeva proprio come comportarsi! Ha controllato il pallone in modo incredibile, vero Marco? Il portiere sapeva dove avrebbe tirato, ma nonostante ciò non ha potuto fare nulla! Gran pallonetto! È stato in grado di superare il portiere con grande eleganza! Eccezionale! Sì, ha mostrato grandissima classe scavalcando il portiere da lì! Assolutamente una conclusione magnifica! Sì, ha scavalcato il portiere in modo eccezionale! Una conclusione superba! Sì, questo è stato veramente un colpo di classe eccezionale! Certamente, questa è la firma di un gran razziatore d'area! Sì, sono stati fortunati! Non potranno di certo lamentarsi con la malasorte! Ma penso che sia contrariato per aver respinto male il primo tiro! Beh, è il rischio che corri quando non trattieni il pallone o quando lo respingi corto! Certo, era impensabile che commettessero un errore simile! Beh, penso che il difensore non avesse visto il pallone che arrivava dalle sue parti! Hai ragione! Si è avventato sul pallone come un fulmine! Grandi meriti per la conclusione, ma penso che sia stato decisivo il passaggio! La difesa è andata in bambola! I difensori non sono riusciti a marcarlo stretto! Come mai? Sì, è davvero difficile difendersi contro una squadra che possa giocare un calcio tanto efficace! Completamente smarcato al centro dell'area! Ha avuto il tempo e lo spazio di prendere la mira! La difesa dovrebbe interrogarsi sui propri errori! Lo hanno lasciato solo e non poteva sbagliare da lì! Uh, difesa imbarazzante soprattutto a questi livelli! Si è inserito al meglio nel valco libero e ha concluso con prontezza! Straordinario! Tiro eccezionale! È un grande! Sa sempre come colpire! Nessuna esitazione e una conclusione strepitosa! Ha mostrato una grande sicurezza di sé! Assolutamente da lasciare senza parole! Se c'è una magnifica visione di gioco quando è in piena corsa! Bisogna dire che è stata una giocata magnifica! Ha sfruttato bene, anzi, molto bene l'opportunità che ha avuto! È un magnifico pezzo di bravura con una grande conclusione! È entrato di prepotenza e ha concluso! Davvero notevole! Se ne è andato via lasciando di sasso i difensori! Ha alzato lo sguardo e ha concluso a rete con facilità! Ha bruciato i difensori con una rapidità come questa! Non avrebbero mai potuto fermarlo! Ha saltato senza problemi un paio di difensori! Ha chiuso alla grande l'azione! Eccellente! Ci ha appena mostrato tutto il suo talento! È stato un grande scatto e una conclusione eccezionale! Che magnifico talento! Quando alla palla al piede non c'è nessuno come lui! Che gol, Marco! La difesa è stata completamente messa a soccuadro! Gran gol! La difesa non sapeva che pesci pigliare con lui! È stato uno scatto davvero magnifico, Marco! Questo dovrebbe finire sull'album di famiglia! È incredibile come si è preparato lo spazio per il tiro da quella posizione! Un gran tentativo! Ci vuole molto coraggio per provarci da quella posizione! Questa è stata una conclusione di altissima qualità! Nessuno era uscito a fermarlo qui! Avrebbe potuto calciarla meglio di così? L'ha colpita benissimo e non ha dato chance al portiere! Non credo che il portiere possa fare molto quando si colpisce il pallone tanto bene! Sì, e adesso penso abbiano colto al volo l'occasione! Hai ragione! Penso che questo abbia dato una spinta notevole al loro morale! Davvero un tiro splendido! Sì, è stato un tiro davvero perfetto! Una gemma, Marco! Sì, l'ha preso benissimo! Questo non fa che sottolineare la qualità del loro attacco! Quando sono in queste condizioni di forma sono davvero irresistibili! È difficile far meglio di così! L'ha colpita bene e il portiere ci ha potuto fare ben poco! Un gol come questo sarà sempre una grossa iniezione di fiducia per la squadra! Beh, la speranza è che questo cambi la partita! Gli avversari non potranno più chiudersi! Sperando di non subir gol! Provare a gestire un vantaggio per 1-0 può essere un'operazione pericolosa! Dovrebbero cercare di segnare ancora! Beh, è un inizio promettente! Adesso dovrebbero giocare più tranquilli! Non avrebbero potuto immaginare una partenza migliore! Beh, è l'unico gol segnato finora nella partita per cui gustiamocelo di nuovo! Beh, finora è l'unico gol che possiamo rivedere! Ecco come sono riusciti a sbloccare il risultato! Rivediamo l'azione del gol! Speriamo che non sia l'unico della partita! Ecco un replay del gol segnato! Saranno felici di avere aperto le marcature! Rivediamo l'azione con cui il portiere ha perso l'imbattibilità! Il replay ci mostra come hanno subito il primo gol! Vediamo di nuovo l'azione del gol! Beh, certamente adesso sono in una posizione di forza! Devono assicurarsi di non commettere errori! Sì, e bisogna dire che probabilmente lo hanno meritato! Adesso hanno bisogno di tener duro per il resto dell'incontro! Ecco come sono riusciti ad andare di nuovo in vantaggio! Vediamo di nuovo come sono riusciti a segnare! Ecco cos'è accaduto nell'azione del gol! Rivediamo il gol con cui sono riusciti a tornare in vantaggio! Il replay ci mostra come siano riusciti a tornare in vantaggio! Non vedo perché non dovrebbero! In queste situazioni spesso bisogna saper cavalcar l'onda! Beh, credo proprio che se continueranno a pressare in questo modo, perché no? Hanno saputo sfruttare l'occasione! Adesso il destino è nelle loro mani! Rivediamo il gol che ha riportato l'incontro in parità! Ecco come sono riusciti a rientrare in partita! Rivediamo cos'è successo nell'azione del gol del pareggio! Ecco di nuovo l'azione che ha portato al gol! Questo replay ci mostra come è nato il gol! E questo è il gol che ha riportato l'incontro in parità! Sì, questa è l'azione del gol che ci viene riproposta! Ecco il gol che ha ristabilito la parità! Beh, questo offrirà ai tifosi una bella occasione per scatenarsi! Marco, penso che questo potrebbe dare una svolta alla partita! Marco, penso che non sia mai un brutto momento per segnare! E adesso vorranno riprovarci! E bisogna dire che se lo son meritato! Però non devono fermarsi se vogliono vincere la partita! Sì, probabilmente lo meritavano, ma adesso serve un'altra stersata se vogliono volgere l'incontro a proprio favore! Sì, possono sicuramente rendere le cose più interessanti per i minuti che restano da giocare! Sì, stanno mostrando grande coraggio, ma se le cose rimanessero così... Sì, non alzeranno bandiera bianca! Non si può discutere il loro impegno, anche se in questo momento perderebbero la partita! Forse non si può dire che il vento soffi dalla loro parte, ma la partita è cambiata dopo questo gol! Oh sì, due portieri non sarebbero stati in grado di parare questo tiro! Wow, non sembrava che avesse grandi chance, invece ha tentato la fortuna e gli è andata bene! Beh, è stata assolutamente superba! Il portiere... Sì, impossibile fermare un tiro simile! Superbo tiro al volo sbattuto in porta! Molto bello! Stava quasi perdendo l'equilibrio, ma è riuscito a metterla in rete! Non mi sembrava fuori gioco da qui! Decisione quantomeno dubbia! La bandierina si alza in ritardo, decisione controversa! L'arbitro è esitato a fischiare! Era difficile capirci qualcosa! Il guardalini ha alzato la bandierina in netto ritardo! La bandierina si è alzata con colpevole ritardo! Un attimo di esitazione da parte dell'assistente! Difficile capire! L'arbitro non era sicuro! Questo autogol potrebbe veramente cambiare il corso degli eventi! Dovrebbero autoflagellarsi dopo aver regalato un gol come questo! È vergognoso! Talvolta può anche accadere, ma nessuno può regalare un gol come questo! Non penso proprio Marco! Prenderanno tutto quello che verrà! Senza dubbio! E non credo che l'allenatore se ne avrà male! Beh, credo che a questo punto piangere sia inutile! Quello che è fatto è fatto! Una fortuna davvero sfacciata! Ma non possono farci nulla! Di certo non è mai piacevole un autorete! Sicuramente sarà una mazzata! Speriamo che abbia un effetto reale sull'incontro! Se gioca bene potrebbe conquistarsi un posto in squadra! Forse la sostituzione porterà forze fresche in campo! Vediamo se riusciranno a spostare gli equilibri dell'incontro! Sì! L'allenatore probabilmente sentiva che avrebbe dovuto... Sì! L'allenatore deve aver pensato che per segnare era necessario un cambio di rotta! Sì! Penso sia il momento giusto per farlo! Sì! Stanno cercando forze fresche per venire a capo della questione! Beh, sperano di ottenere una spinta decisiva verso la vittoria dalla panchina! Beh, sembra che stiano tentando di mettere al sicuro la vittoria! L'allenatore probabilmente ha ritenuto che ci fosse bisogno di forze fresche in fase offensiva! Sì! Dentro un attaccante! L'allenatore vuole rinforzare la linea offensiva! Ovviamente cercano di alzare il baricentro per segnare un altro gol! Sì! Hanno messo un difensore! Penso che l'allenatore voglia coprirsi le spalle dietro! Sembra che l'allenatore voglia rinforzare il reparto retrato! Ovviamente cercano di rinforzare la difesa! Sì! Sperano che possa dare nuovo verve al centrocampo! Immagino dietro le due punte! Beh, sembra che abbiano intenzione di continuare ad attaccare! Sì! Sarà interessante capire dove si sistemerà! Mi aspetto che l'allenatore voglia offrire un filtro alla difesa! Sì! Hanno messo un incontrista! Forse l'allenatore ritiene che manchi un po' di filtro centrocampo! Penso che vogliano rinforzare il centrocampo! Sì! Probabilmente sta male! Immagino che lo abbiano tolto per precauzione! Sì! Dovevano sostituire il giocatore infortunato! Ha dovuto fare i conti con una brutta botta! Sì! È logico! Stava soffrendo ed è stato giusto dargli il cambio! Sì! Non c'era possibilità che potesse continuare a giocare! Sembra un infortunio serio! Eh sì! Speriamo che non sia niente di grave! Sì! Non avevano alternativa! E speriamo non si tratti di un infortunio grave! Sì Marco! Il tè negli spogliatoi sembrerà ancora più buono! Sì! Sono certo che finiranno il primo tempo con grande entusiasmo! Beh! Sono sicuro che i giocatori trarranno grande beneficio dall'essere avanti nell'intervallo! Beh! Entrambe le squadre sono molto ben organizzate dietro e anche davanti! Ma non si può dire che un solo gol possa decidere tutto! Eh sì Marco! Penso che il secondo tempo sarà scoppiettante già dai primi minuti! Beh! Credo che i due allenatori vorranno dalla loro squadra un atteggiamento più offensivo nel secondo tempo! Non lo so proprio Marco! La partita è davvero molto incerta oggi! Ok! E infatti sono in vantaggio! Situazione ideale per chiunque! Il vantaggio è una situazione ideale ma penso che mantenerlo sarebbe la migliore ricompensa per i loro sforzi! È vero! Ma c'è ancora molto tempo a disposizione per rientrare in partita! Devono soltanto continuare a lottare! Beh! Saranno sicuramente contrariati di aver subito il gol ma sono ancora in partita! Non c'è assolutamente ragione di farsi prendere dal panico! Stanno facendo il loro dovere abbastanza bene! Non dovrebbe essere un grosso problema! Basterà che escano dagli spogliatoi determinati e tutto dovrebbe tornare a posto! Sì! È stata l'unica situazione in cui hanno commesso un errore! Penso che siano in grado di rimontare e sono sicuro che lo sanno! Vedremo cosa ci riserva il secondo tempo! Sai! Ho osservato attentamente il loro gioco e credo che se riescono a sfruttare un errore difensivo Beh! Conosco l'allenatore e credo proprio che chiederà una maggiore Sì! Davvero un peccato! Proprio quando tutto stava andando benissimo! Saranno contrariati naturalmente ma sono ancora in partita! Sì! Sono stati sorpresi ma non c'è alcun motivo per preoccuparsene troppo a lungo! Beh! C'è un po' di confusione fra i difensori! Devono cambiare molte cose nella ripresa! Sì! Proprio il momento meno adatto per subire gol! Ma ci sono altri 45 minuti per cambiare le cose! Eh sì! Un gol preso in quel modo non fa certo bene al morale! Ma credo che abbiano creato diverse occasioni! Ma la partita ha sicuramente ancora molto da dire Marco! Voglio sbilanciarmi e ti dico che ce la possono fare! Hanno bisogno di cambiare registro nel secondo tempo! La squadra non sembrava in grado di pungere nel primo tempo! Ad essere onesti è stato abbastanza scadente! Non sembrano in grado di trovare sufficienti motivazioni psicologiche! Sì! Dovranno procurarsi molte altre opportunità se hanno intenzione di ribaltare il risultato nel secondo tempo! Non ancora Marco! Ce la stanno mettendo tutta ma non riesco! È vero! È mancata la concentrazione in difesa e devono cancellare questi errori! Non c'è dubbio! Abbiamo visto la difesa soffrire in più occasioni! Eh! Beh! Non sono certo uno scommettitore in caldo! Beh! Credo che questo sia il desiderio di tutti! Ho la sensazione che il secondo tempo ci darà delle soddisfazioni! È stata una grande chance! E bisogna chiedersi se ne avranno mai una migliore per passare in vantaggio! Certo Marco! E speriamo di vedere un calcio più offensivo nei prossimi 45 minuti! Hai ragione Marco! Hanno assunto un atteggiamento troppo difensivo! Certo Marco! Stanno tenendo la posizione in modo molto convincente! Sì! Hanno fatto bene! Devono soltanto continuare così anche nei secondi 45 minuti! Sì! Stanno creando tantissime occasioni! Ma adesso devono trasformare il loro dominio in gol! Sì! Ma alla fine della partita c'è soltanto una statistica che conta! E cioè quella dei gol! Non consola il fatto di pensare che se una squadra segnasse potremmo vedere caterve di gol! Hai ragione Marco! Hanno creato tantissime occasioni ma non sono riusciti a buttare la palla dentro! Beh! Entrambe le squadre hanno difettato in precisione! Speriamo di vedere qualcosa di meglio nel secondo tempo! Sinora è stata una partita molto interessante! Ma i tifosi vorrebbero vedere un gol! Si sono annullate vicenda! Speriamo che cambi qualcosa nella ripresa! Penso che entrambe le squadre siano ben organizzate dietro! Vediamo cosa inventeranno i due attacchi per superare questo muro! No! Nessuna delle due squadre ha mostrato la capacità di bucare la di... Assolutamente! È incredibile che con un attaccante con... Qualche modifica tattica di sicuro! Ma non delle sostituzioni! Credo che... Saranno sicuramente contrariati! La partita è stata davvero... Eh! Hai ragione! Sembra che abbiano smarrito la concentrazione! Sono stati abbastanza sfortunati a subire il pari! Ma vediamo cosa ci riselva il secondo tempo! Beh! Credo che l'allenatore non sopporterà altri cali di concentrazione! Saranno sicuramente delusi! Ma credo che sappiano come riprendere in mano la partita e segnare il gol della vittoria definitiva! È vero! Ma persino quando erano sotto di un gol non hanno... Sì, Marco! Hanno fatto un buon lavoro e questo renderà il secondo tempo davvero interessante! Sì! Hanno subito gol! Ma hanno tenuto la concentrazione altissima e alla fine sono stati premiati! Beh! Per quello che si è visto nel primo tempo credo proprio di sì! La loro determina... Non lo escludo assolutamente, Marco! Le squadre si sono... Saranno davvero contrariati! Ad aver subito gol così... Eh! L'allenatore sarà infuriato! Dopo tutta quella fatta... Non saranno felici, certo! Ma non ci si può permettere di staccare la spina prima del dovuto! Non credo, Marco! Entrambe le squadre proveranno a ripartire una volta rientrate in campo per la ripresa! No, di certo! Stanno facendo molto bene e ci sono ancora 45 minuti per centrare l'obiettivo! Beh, è naturale che siano molto delusi! Ma se devo essere onesto... Mi conosci, Marco! Di solito non mi sbilancio sul risultato di un incontro... No! Non credo sia come dici! Saranno sicuramente... Sì, saranno compiaciuti per aver ottenuto il pareggio poco prima... Saranno compiaciuti! Una grande spinta per un secondo tempo a mille all'ora! Sì, con un gol di svantaggio hanno fatto di tutto per riuscire a raggiungere il pareggio prima della pausa! Assolutamente! Darà loro una grossa spinta per la ripresa! Sì! Non penso che adesso ci siano differenze tra le due squadre! Hai perfettamente ragione! E questo darà loro la spinta per iniziare al meglio il secondo tempo e cercare di segnare ancora! Senza dubbio! Credo che questo gol abbia dato loro quel pizzico di sicurezza in più che serviva! Eh sì! E questo dimostra che non bisogna mai perdersi da... Saranno sicuramente felici di aver trovato nuovamente il pareggio! È una vera battaglia! È un incontro molto appassionante! Speriamo che continui così anche nella ripresa! Sì! È stata una buona partita! Vero Marco? L'unico neo è stata qualche disattenzione difensiva! Sì! Direi che fino alla fine siamo rimasti incollati al teleschermo! Speriamo che il secondo tempo sia ancora migliore! Sì Marco! È stata una partita molto buona fino a questo momento! Speriamo che anche nella ripresa si continui così! È stato un match molto equilibrato! Credo che vedremo alcuni aggiustamenti tattici nella ripresa! Beh, credo che diranno ai loro difensori di non distrarsi! Sicuramente l'hanno fatto! E nel secondo tempo vedremo chi avrà la meglio! Penso che valeva la pena essere presenti a questo incontro! Non è stato certo una classicissima! Ma ne ho visti ben di peggio! Devo dire che sinora è stato un match piuttosto eccitante! Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il ritmo giusto! La speranza è che le cose possono cambiare nella ripresa! Non male! Ma niente di speciale! Speriamo che le cose migliorino! Beh, la partita è stata troppo nervosa e l'arbitro ha fatto bene a mettere spesso mano ai... Beh, abbiamo visto molti interventi al limite del regolamento! Penso che gli allenatori farebbero bene a strigliare i loro giocatori! C'è stato un numero impressionante di falli, Marco, e questo ha impedito al gioco di decollare! Abbiamo visto troppi falli nel primo tempo, molti dei quali assolutamente inutili! L'arbitro deve... L'arbitro ha avuto molto da fare in questa frazione di gioco e i giocatori non hanno fatto nulla per... Il vantaggio ha dato loro una grande sicurezza, ma devono stare attenti a non rilassarsi troppo nella ripresa! Hanno giocato un primo tempo ad altissimi livelli! Hanno pressato con... Beh, sono riusciti a mantenere per lunghi tratti della partita il possesso... Di sicuro il risultato premia la squadra che ha giocato meglio! Sono... Hanno dominato la partita, non lasciando alcun spazio agli avversari e mantenendo il totale controllo del gioco! Hanno mantenuto lungo il possesso palla, ma non sono riusciti ad essere in... Non saranno sicuramente soddisfatti del risultato del primo tempo! Se riescono a mantenere lo stesso livello di gioco nel secondo tempo, saranno sicuramente premiati! Devono cercare di tenere duro! Il risultato del primo tempo è senza dubbio bugiardo, Marco! Hanno avuto per lunghi tratti... Hanno mantenuto il possesso palla, ma non sono riusciti a concretizzare! Devono cercare di essere... Hanno mantenuto il possesso palla per più tempo, ma non hanno saputo concretizzare! Saranno sicuramente... Penso che vedremo qualche cambiamento tattico nella ripresa! Penso che abbiano giocato un'ottima partita! Devono solo cercare... Ma Marco, i tifosi sembrano un po' delusi! La loro squadra giocata... L'allenatore non sarà contento, visto che la sua squadra non è riuscita a concretizzare... Beh, sono riusciti a concretizzare le poche occasioni che hanno avuto... Beh, il calcio è strano, lo sappiamo! Hanno avuto poche occasioni, ma sono riusciti a... Hanno tenuto meno palla, ma sono stati più concreti ed ora sono in vantaggio! Penso che non siano soddisfatti del modo con cui hanno gestito il possesso... Beh, hanno sfruttato al massimo le poche opportunità avute a disposizione! E per il momento sono in vantaggio! Penso che l'allenatore dovrà modificare qualcosa nello schieramento... Devono cercare di mantenere di più il possesso palla! Stanno mollando troppo presto e rischiano di essere umiliati! Stanno disputando una pessima partita! Molti passaggi... La difesa sta avendo buon gioco sugli avversari, ma devono essere più incisivi in avanti se vogliono avere la meglio nel secondo tempo! Mi sembra che non siano riusciti a costruire delle azioni degne di nota! È una partita equilibrata, Marco! Penso che se riescono a tenere di più... Il vantaggio è sicuramente una buona notizia per la squadra! Ma i loro... Beh, a mio parere, Marco, devono assolutamente trovare altre soluzioni! Penso che il risultato non rispecchi i reali valori visti in campo! Beh, credo che i giocatori non siano soddisfatti del gioco che hanno a spreco! Beh, sicuramente ciò che conta di più è il risultato! Ma credo che... Marco, le grandi squadre solitamente riescono a sfruttare meglio gli... Marco, riesco addirittura a sentire le urla dell'allenatore adesso! Sfruttate gli spazi! A questi livelli ci si aspetta che una squadra riesca a coprire al meglio gli spazi con i propri giocatori! Sono molto sorpreso che abbiano pareggiato! Perché non stanno sfruttando al meglio gli spazi che si stanno aprendo, Marco! Saranno abbastanza frustrati di non riuscire a creare spazi! Il mio suggerimento è di giocare con più astuzia e di sfruttare il lancio lungo! Penso che in questo... È stata una lezione di calcio per i loro avversari a dir la verità! Abbiamo visto del calcio perfetto nel primo tempo, Marco! Alcuni spunti interessanti... Secondo me il primo tempo è stato davvero piacevole e questo perché abbiamo ammirato un'ottima... Questo è un esempio di come si gioca a pallone, Marco! E l'allenatore dovrebbe... Penso che abbiamo assistito a una meravigliosa frazione! Difesa davvero sorprendente! A dispetto del loro ottimo modo di stare in campo, saranno sicuramente molto contrariati per non essere riusciti a portarsi in vantaggio dopo l'ottima disposizione tattica, Marco! Davvero strano perché stiamo ammirando un'ottima disposizione e copertura... Stanno facendo un sacco di cose nella maniera migliore! Specialmente lo penso che il punteggio metta nudo la loro incapacità di rifinire al meglio l'azione e di tirare a re... A mio parere questo primo tempo ha mostrato un'ottima circolazione di palla e un ottimo utilizzo del... Se guardiamo al modo in cui sono riusciti a stare in campo... Sto ammirando un'ottima capacità di inserirsi negli spazi in questo... Secondo me il primo tempo ha mostrato una capacità di inserirsi negli spazi davvero da manuale! Mi piace molto la loro capacità di far girare il pallone e di inserirsi negli spazi! Penso che adesso conoscano meglio i loro avversari, Marco! E che Marco sono sembrati davvero convinti delle proprie possibilità e sono riusciti a sfruttarle al meglio! Penso che rispetto all'andata abbiano messo a punto la loro tattica e che i risultati adesso parlino chiaro! Marco, saranno davvero contrariati per aver gettato via il loro vantaggio? Non è esattamente quello che mi aspettavo da questa partita! Siamo pronti per un secondo tempo entusiasmante, Marco! Devo dire che quando tutto è in gioco, prima del secondo tempo della partita di ritorno, non hanno mostrato molti segni di debolezza durante questa situazione di parità e sono pronti per una ripresa a mille all'ora! Fino a questo momento sta andando tutto nel mondo migliore per loro! Sono in vantaggio considerando la partita di andata! E questo darà loro una... Bisogna ammirare la loro determinazione! Sono riusciti a riemergere dopo la partita di ritorno! Marco, bisogna dire che non hanno mai mollato dopo il pessimo risultato! La critica saccente che li aveva già condannati prima della partita odierna adesso... Questa situazione era ben difficile da prevedere prima del calcio d'inizio oggi! So che i giocatori e l'allenatore erano molto contrariati per il risultato! Penso che la cosa importante sia non rilassarsi e tenere... Penso che debbano concentrarsi sulla difesa del risultato! Mi chiedo se non ci sia un po' di rilassamento e questo sarebbe... La chiave è non commettere ulteriori errori difensivi! Se riescono a coprirsi al meglio potrebbero farcela! La bellezza del calcio è che non puoi mai sapere cosa potrà... Beh Marco, i golli di trasferta ancora una volta hanno pagato e adesso... È fondamentale per una squadra riuscire a segnare in trasferta! Marco, penso che debbano cavalcare l'onda del primo tempo! Nel primo tempo abbiamo assistito a una vera battaglia ed è quello che vorremmo che accadesse nella ripresa! Non vedo l'ora! Direi che oggi vediamo una squadra ben diversa rispetto all'andata! Forse si sono rilassati troppo presto oggi! Hanno dilapidato il vantaggio dell'andata e sembrano davvero impessi... Mi dispiace proprio Marco, ma questa squadra oggi è imbarazzante! E i tifosi che avevano scelto di... Penso che il miglior consiglio che il tecnico possa dare è quello di... Penso che adesso siano con le spalle al muro Marco! Il secondo tempo sarà una battaglia e la strada è tutta in salita! Il mio dubbio è se questa squadra abbia le capacità di lottare... Penso che debbano stringere i tempi nella ripresa! Perché se... Beh Marco, mai dire mai! È sicuramente la cosa migliore! Ovviamente l'autorete è una mazzata, ma non penso che avrà un effetto così devastante su di loro! Penso che l'allenatore non colpevolizzerà il giocatore che ha provocato l'autorete! Non vorrei proprio essere nei panni di chi ha fatto autogol! Un autogol è il peggiore... Penso che l'autorete sia la migliore sintesi possibile nel primo tempo! Sì, sta diventando una guerra di nervi! Chissà chi sarà il primo a commettere errori e quali conseguenze avranno! Sì, è stata splendida Marco! Un'azione tambureggiante senza soluzione di continuità! Beh, non male come partita! Ma un gol sarebbe un'altra cosa! Sì, nessuna delle due squadre sembra voler venire a capo della partita! È davvero sconcertante! Non penso che sarebbe troppo chiedere un gol! Sì, penso che ce l'abbiano messa tutta e che alla fine siano riusciti a segnare! Diamo loro ciò che meritano! Sì, saranno contenti di aver recuperato i Nestremis! Questo è quello che succede quando non ti perdi d'animo e continui dritto per la tua strada! Sì, ma non sono sicuro che abbiano abbassato la guardia! Mi sembra... Eh, certamente le urla dell'allenatore non hanno sortito il loro effetto! Beh, ad essere sinceri sono stati fortunati a essere avanti al giro di Boa! Entrambe le squadre si sono annullate a vicenda! Direi che non ci sono dubbi! Ancora no, c'è molto equilibrio tra le due formazioni! È stata interessante, ma sono certo che ne vedremo delle belle nei tempi supplementari! La situazione è davvero tesa adesso, vero? Difficile dire qualcosa adesso! Un'illuminazione o un errore potrebbero orientare il match in un senso o nell'altro! È stato un incontro davvero interessante, Marco! Da qualsiasi parte lo si voglia analizzare! 120 minuti senza gol sono una storia dal finale mo... Sì, nessuna delle due squadre ha saputo mettere dentro il pallone! Non promette certamente bene in vista dei calci di rigore! Assolutamente no, Marco! È stato davvero coinvolgente! Mancano soltanto i gol! Sì! Saranno esaltati per essere riusciti a rimontare! Marco! Davvero un epilogo impensabile, visto quello che accadeva soltanto pochi minuti fa! È vero! Ma è stata una grande partita e non... Sì, ma bisogna anche dare i giusti meriti all'altra squadra! La speranza è che non abbiano smarrito incisività! Certo che sì! Erano in situazione di chiara predominanza! Saranno frustrati! Ma non c'è nulla da fare adesso! È incredibile, Marco! Bisogna dire che la lotteria dei calci di rigore era sempre in agguato! La differenza di valori fra le due squadre era minima! Sì! Si possono perdonare i giocatori perché sono stanchi? Sì, è una vergogna che si sia arrivati a questo punto, ma qualcuno deve pur vincere! Sono felice di poter dividere questa emozione con i tifosi, è stata una partita straordinaria! È sempre bello vedere una partita così combattuta e soprattutto abbiamo visto i campioni di fronte a noi! Guardate che festa! Questo fa capire a tutti che cosa significhi vincere questo titolo per i giocatori! Gli avversari sono totalmente demoralizzati! Hanno dato tutto, ma non ce l'hanno fatta! Match davvero emozionante! Il giocatore soffrirà come un cane per questa sonora sconfitta! Capisco che chi ha giocato possa essere deluso, ma dai! Sì, non vediamo spesso cose di questo tipo! Beh, penso che una vittoria sia sempre una vittoria, non ho mai visto niente di simile! Un modo veramente terribile di perdere una partita, specialmente quando si è in vantaggio! Incredibilmente, hanno dovuto alzare bandiera bianca! È a dire il vero, entrambe le squadre hanno giocato veramente male! Grande battaglia, terminata nel modo più crudele! Sì, hanno fatto bene, ma quando si finisce in questo modo si sa perfettamente che siamo di fronte a una vera lotteria! Hai ragione Marco, entrambe le squadre avevano giocato bene! Sì, hanno dovuto dar fondo a tutte le loro energie per difendere il vantaggio e hanno fatto un lavoro superbo! No, hai ragione, saranno furiosi per questo! Aveva assolutamente Marco, il gol ha migliorato la qualità del gioco, ma il primo tempo era stato disastroso! Certamente non è mai facile perdere, ma quando un solo gol... Certo Marco, hanno lavorato duro, non hanno mai muo... Sì Marco, non riesco a immaginare un inizio migliore di questo! Hai ragione Marco, non hanno giocato così male e non penso meritassero di perdere in modo così tremendo! Assolutamente, una gran partita con tantissime azioni! Pazzesco che qualcuno debba perdere! Sì Marco, tutti li davano sconfitti oggi, invece hanno fatto tutto benissimo e hanno meritato la vittoria! Sì, è stata un'innezione di fiducia e li ha incoraggiati a non mollare fino al fischio finale! Come ci aspettavamo, hanno avuto una marcia in più! Non vedo l'ora di ammirarli di nuovo! Sì, avevano qualcosa in più degli avversari, ma onore anche agli sconfitti! Sì, i tifosi saranno davvero felici per la vittoria! Certo Marco, una vittoria assolutamente prevedibile! Sì, grandissima prestazione in ogni senso, davvero poche sorprese rispetto al risultato che ci aspettavamo! Grandissima vittoria contro ogni pronostico, bisogna levarsi il cappello di fronte a questi giocatori! Sì, hanno conquistato una vittoria fantastica contro ogni pronostico, l'allenatore sarà certamente soddisfatto! Sì, straordinaria prestazione, assolutamente eccezionale! Sì, prestazione incredibile! Nessuno di noi avrebbe mai pensato una cosa straordinaria risultato e l'allenatore merita tutti gli elogi! Non hanno rispettato il pronostico, è davvero una cosa sorprendentemente negativa! Hanno giocato malissimo, vero? Non era il risultato che si aspettavano! Hai ragione Marco! Prima del fischio d'inizio tutti noi... E invece niente di tutto questo Marco! Erano i grandi favoriti! Sì, probabilmente hanno sottovalutato l'impegno! Beh, speriamo che possano trarre il giusto insegnamento da questa sconfitta! Niente affatto, non mollano mai e non si buttano giù per così poco! Sì, devono reagire immediatamente, ma è un'esperienza utile per loro! Poche davvero Marco! La speranza è che si rimbocchino le mani? Certo che no Marco! Ma sono certo che l'allenatore trarrà certamente il pareggio non può soddisfarli! Questa era una squadra che potevano battere! Sì, non saranno felici del pareggio! Non li aiuta nel loro tentativo di risalita! No, penso che abbiano sottovalutato l'avversario Marco! E questo è un grosso errore! Non hanno giocato male, ma era una di quelle giornate in cui ti gira tutto storto! Saranno compiaciuti per aver pareggiato! Prima della partì, certamente! Hanno sovvertito molti pronostici con questo risultato! Beh, penso che sia stato un pareggio meritato! Saranno contenti! Grande risultato! Contro una squadra di questo calibro è come una vittoria! Fantastico Marco! Penso che avrebbero firmato... Penso che dopo tutto abbiano giocato bene! Più o meno sì! Hanno soltanto un paio di cosette da sistemare! Penso che la loro determinazione abbia dato loro quello che cercavano! È stato un match appassionante all'insegno del calcio d'attacco! Hai ragione Marco, ma credo che abbiano grandissimo potenziale e che risolveranno i loro problemi molto presto! Sì, penso di sì Marco! Hanno bisogno di creare più occasioni da gol! Penso di sì! Si può sempre imparare da ogni partita e questa non fa eccezione, anche se è stata una sconfitta! Beh, vedo le due squadre scontente del risultato! Sì, probabilmente un risultato giusto! Nessuna delle due squadre ha fatto abbastanza per vincere! Mi sono proprio divertito! È sempre bello vedere due squadre che in campo danno il 100%! Penso di sì! E non ho alcun appunto da fare sul livello del gioco visto in campo! Molto! Infatti devo dire che il livello del gioco è stato eccellente! Marco, è stata una gran partita! Molto coinvolgente con fantastica partita e 90 minuti davvero elettrizzanti! Stanno facendo possesso palla Marco! Pulito ed ordinato! Marco, quante volte abbiamo detto che con il possesso palla penso che abbiano dominato giocando una partita intelligente! Non hanno lasciato agli avversari molte possibilità e hanno sfruttato al meglio ogni occasione che capitava loro! Secondo me hanno fatto uno splendido lavoro di squadra, tenendo palla ed innervosendo gli avversari! Marco, quello che stiamo vedendo dimostra che tutto ruota intorno alla qualità della finalizzazione! Alcuni dei loro passaggi avrebbero potuto essere migliori! Tu potrai anche ipotizzare che siano frustrati per la mancanza di possesso! Abbiamo visto un gioco di contenimento difensivo davvero eccezionale! Da sottolineare la loro splendida difesa! Penso che la vittoria sia figlia della loro grande determinazione! L'allenatore dirà sicuramente due paroline ai suoi adesso! Gli attaccanti sono... Beh, è inutile sperare di segnare se non crei in nessun modo opportunità per farlo! Per una squadra che mostra una sicurezza enorme nel gestire il possesso! Immagino che il risultato sia dovuto in larga parte agli errori con... Penso che oggi non siano stati all'altezza! Questa è la verità! Devono concentrare davvero una prestazione sconcertante oggi! E lo sanno perfettamente! Non saranno certamente felici per la sconfitta naturalmente! Penso che abbiano sofferto per la mancanza di sicurezza oggi! Lo si può vedere! Penso che vadano via molto delusi per il pareggio oggi, Marco! Erano molto sicuri sul pallone oggi! E lo hanno gestito in modo intelligente! Penso che oggi avrebbero dovuto vincere, Marco! Questa è la pura verità! È mancata la qualità in fase offensiva! Penso che il punteggio finale non rispecchi quello che abbiamo visto in campo! Abbiamo visto un gioco difensivo eccellente oggi, vero? So che non sono proprio riusciti a dominare il gioco oggi! Mi sono parsi sempre in... Mi chiedo se l'allenatore avesse detto di chiudersi oggi! Non mi sono sembrati molto proprio agio sul pallone! E questo ha impedito loro di... Analizzando il gioco, credo che si possa comprendere come risultato! Penso che gli attaccanti saranno soddisfatti di loro stessi oggi! Oggi hanno iniziato fortissimo! E questo ha portato la... I giocatori sanno che devi crearti le opportunità di segnare se vuoi fare gol! Credo che il discorso dell'allenatore negli spogliatoi abbia deciso... Credo che meritassero la vittoria! Hanno messo sotto pressione il portico! Dopo un primo tempo normale, credo che l'allenatore abbia dato consigli davvero interessanti! Perché sono... È come se in campo fosse entrata un'altra squadra per i tempi supplementari! Erano scatenati! La squadra oggi ha mostrato di essere in ottime condizioni! Non è affatto facile creare tutto quel volume di... Sembrava che i giocatori non volessero più fermarsi oggi! Persino alla fine... Credo che la partita di oggi abbia mostrato tante azioni da manuale del calcio! Come si dice, se non compri il biglietto non potrai mai vincere la... Secondo me, devono affinare le loro doti realizzative! Davvero deludente! Hanno creato tante occasioni e non hanno... Credo che il fatto che non siano riusciti a sfruttare le occasioni nel primo... Oggi ce l'hanno messa tutta! Ma probabilmente c'è un problema... Marco, se l'arbitro avesse prolungato la partita di mezz'ora... Credo che la paura di perdere li abbia frenati nel finale! Perché hanno smesso di... Saranno davvero dispiaciuti per aver giocato sotto ritmo! Lo abbiamo visto molte altre volte prima di oggi, Marco! Se non riesco... Credo che oggi non fossero nella giornata migliore! Un gol adesso sarebbe decisivo da entrambe le parti! C'è ancora tempo per segnare! C'è ancora molto tempo da giocare in questa partita! Entrambe le squadre hanno ancora tempo per portare a casa la partita! Il difensore l'ha intercetta! Facilmente difesa! Il difensore l'ha intercetta! Intercettata dal difensore! Facilmente intercettata! Nessuno lo ha toccato! Davvero un cross pessimo! Nessuno ha potuto raggiungerlo! Il cross è arrivato, ma nessuno ha potuto raggiungerlo! Ha tentato di crossare, ma nessuno ha potuto raggiungere la palla! Ha messo la palla dentro, ma nessuno ha potuto raggiungerla! E in arrivo un altro cross! Ecco un altro cross! Stanno tentando un altro cross! La cross a rasoterra! Cross basso! Scegli un cross a rasoterra! Questo è un cross basso! Basso! Prova un cross basso! Cross tagliato a uscire! Cross tagliato! Cross tagliato al centro dell'area! La mette subito in mezzo! Effettua un cross di prima! Scelto un cross di prima! È un cross di prima! La mette in mezzo! Gran cross! Sta arrivando in porta! Cross al centro! Traiettoria arcuata al centro! La messa a centro area! Indirizzato sul dischetto del rigore! Bel cross in mezzo! Pallone perfetto messo in mezzo! Riuscirà a trovare un compagno libero a centro area! La cross sul secondo palo! Sventaglia sul secondo palo! Il cross arriva sul secondo palo! Cross sul secondo palo! Sta attendendo il palone in mezzo! È libero al centro! Pesca un uomo libero in area! Ecco il cross! Crossa in mezzo! La mette in mezzo! L'ha messa al centro! E crossa! Riuscirà a pescare un compagno libero! Siamo in zona pericolo! La mette in mezzo! Ecco in arrivo il cross! C'è il cross! Deve mettere in mezzo un buon cross! Arriva il cross! Ha messo la palla in mezzo! Crossa! Eccolo! Chi è il compagno smarcato? E cerca un compagno smarcato! Finirà il cross in modo efficace! Giocata in mezzo all'area! Verso il centro! Davvero una palla interessante! Dentro! Buona palla dentro! È una palla interessante! La mette al centro! Spedita in area di rigore! Buon cross in questo caso! Grande chance in questo caso! Non avranno certamente una possibilità migliore di questa per pareggiare il conto! Grandissima chance dal dischetto per pareggiare! Sicuramente non avranno un'opportunità migliore di questa per pareggiare! A meno di un miracolo del portiere, sembra che siamo vicinissimi al pareggio! Grande chance per pareggiare! Sarà il pareggio? Il portiere è sotto pressione in questo caso! Eccolo sul dischetto per il pareggio! Ecco una buona opportunità per pareggiare! Mauro! Questa è davvero un'ottima opportunità per pareggiare, vero? Questa è una grande opportunità per andare in vantaggio! Sicuramente non avranno una possibilità migliore di questa per andare in vantaggio! Ecco un rigore per portarsi in vantaggio! Ecco una grande opportunità per andare in vantaggio! Questo rigore può cambiare la partita! Questa può essere la svolta per un drammatico colpo di scena! Ecco una chance per cambiare tutto! È un momento veramente importante, Mauro! Possono aprire le marcature dal dischetto? Apriranno le marcature dal dischetto? Ecco dunque l'opportunità per loro per rompere l'equilibrio dagli 11 metri! Il portiere dovrà superarsi per sventare la minaccia! Ecco una chance per aprire le marcature! Il portiere subirà il primo gol con questo rigore? C'è una pressione incredibile mentre si attende l'esecuzione di questo! È un rigore che può essere fondamentale! È possibile che questo rigore coincida con il primo gol dell'incontro? Pensi che questo rigore coinciderà con il primo gol dell'incontro, Mauro? Hanno una grande opportunità per aumentare il loro vantaggio! Questa è una grande chance per accrescere il loro bottino! Questa è una buona chance per consolidare il loro vantaggio! È la situazione ideale per mettere a segno un altro gol! Una grossissima chance per aumentare il loro vantaggio! Se dovessero subire un altro gol sarebbe una mazzata pesantissima! Non è vero, Mauro? C'è soltanto il portiere fra loro e la vittoria del torneo! Solo un rigore per essere incoronati i campioni! Devono segnare in questo caso! Non vogliono fallirlo per alcuna ragione! Non avranno una chance migliore di questa per segnare! Il portiere può farcelo in qualche modo ad allontanare la minaccia? La pressione cresce a vista d'occhio! Riuscirà a sfruttare l'occasione? Deve segnare, vero Mauro? Hanno una straordinaria opportunità con questo rigore! Siamo ai calci di rigore! Dove persino i nervi dei migliori tiratori saranno messi a dura prova! Anche se l'esperienza può tenere sotto controllo i nervi nella... Siamo ai calci di rigore! I tiratori dovranno fare il ma... La pressione dei calci di rigore! Un vero test nervoso! Non importa quante volte sono capitate situazioni come queste! Anche i tiratori... Entrambi i portieri saranno preparati mentalmente! Ma con... I nervi sono messi a dura prova! E tutti i tifosi all'interno dello stadio adesso... Devono fare i conti con una tensione incredibile! Il loro cammino è stato straordinario! Hanno lottato fino all'ultimo e hanno vinto! A parte l'esito dei rigori... Devo dire che entrambe le squadre hanno disputato una magnifica partita! Palla collocata sul dischetto del rigore! Mette il pallone sul dischetto! Ecco il primo rigorista! Il primo giocatore scelto per tirare sta prendendo posizione per la rincorsa! È pronto per calciare! Primo rigore! Se la mettono dentro... Hanno vinto! Questo rigore può regalare la vittoria! Non può fallirlo! Se sbaglia... Che opportunità persa! O la va o la spacca! Questo può essere il rigore decisivo! Non può sbagliarlo! Altrimenti i tifosi lo strangolano! Può essere questo il gol decisivo? Ecco quello che potrebbe essere l'eroe di giornata! Ce la può fare a metterla dentro! Può diventare un eroe... Se la mette dentro! Se sbaglia... Sono fuori! Se sbaglia... È finita! È sottoposto ad una pressione spaventosa! Se sbaglia... È tutto finito! Il portiere può diventare l'eroe di giornata! Questo rigore è per la sopravvivenza! Ce la farà? Deve metterla dentro per tenerli in corsa! Ce la farà a tenerli in corsa? Questo potrebbe regalare loro un doppio vantaggio! Hanno l'opportunità di andare avanti di due gol! Adesso... Sono sotto di due gol! Sono sotto di due gol! Il capitano si prende la responsabilità! Il capitano si incarica della battuta con molto coraggio! Portiere contro portiere! Adesso... Potrebbe essere il portiere a segnare! Raramente sbaglia! In occasioni come questa... Dagli undici metri di solito è un cecchino! È finita! Ha segnato! La partita si chiude qui! È finita! Straordinario! Ha conquistato la vittoria! Nonostante l'enorme pressione... L'ha messa alle spalle del portiere! Messo dentro... Con molta sicurezza! Ce l'ha fatta! Uno a uno! E dentro! Sono ancora in partita! Ce l'ha fatta! E la sua squadra non affonda! Sì! L'ha messa dentro! E la sua squadra tira un lungo sospiro di sollievo! Dentro! E i tifosi sono scattati in piedi in delirio! L'ha messa nell'angolino destro! All'angolino destro! L'ha messa in rete sulla destra! Sulla destra! Alla sinistra del portiere! L'ha messa alla sinistra del portiere! Si infila nell'angolino sinistro della porta! L'ha messa all'angolino sinistro! L'ha insaccata a sinistra! Sulla sinistra! Alla destra del portiere! L'ha messa alla destra del portiere! L'ha insaccata al centro della porta! Giusto al centro della porta! Centrale, di potenza, appena sotto la traversa, tiro potentissimo, palla da una parte, portiere dall'altra, il portiere ha scelto l'angolo sbagliato, ha ingannato il portiere ed è gol, nessun problema, il portiere è rimasto immobile, il portiere non sapeva proprio cosa fare, ha segnato, è dentro, ce l'ha fatta, l'ha messa dentro, è riuscito ad insaccare, l'ha fatto, è riuscito a segnare, sì, ben tirato, dentro, è gol. Grandissima parata del portiere ancora una volta, incredibile, un altro grandissimo intervento del portiere, nessun problema per il portiere, troppo vicino per il portiere, il portiere ha intuito in modo superbo, l'ha parata, fantastico, mamma mia, il portiere è riuscito a pararla, il portiere l'ha bloccata, ed è parata, splendida parata, stupenda parata del portiere, il portiere ha intuito in modo assolutamente perfetto. L'ha parata, la partita è terminata, parata, è finita, che parata, la partita è finita, incredibile parata, ed è finita, meravigliosa parata, ed è finita qui. Ha fallito il primo rigore, ha sbagliato, esattamente il modo peggiore per cominciare, ha sbagliato anche lui, siamo dunque in parità, l'ha sparata alta sopra la traversa, l'ha messa sopra la traversa. Oddio, l'ha sbagliata, oh no, l'ha sbagliata, terribile, ha fallito, tiro sbilenco, respinta dal palo, e il portiere può tirare un sospiro di sollievo, sul palo, colpisce il palo, ha colpito il palo, respinta dalla traversa, oh no, sulla traversa, ha colpito la traversa, ha centrato in pieno la traversa. Ha sbagliato, la partita è terminata, sbagliato, è finita, tiro sbagliato, ed è finita, e adesso rimane la morte improvvisa, questo ci porta diritti alla morte improvvisa, è dentro, e allora prepariamoci alla morte improvvisa, l'ha parata, e ha dato alla sua squadra un'altra possibilità per vincere, grazie alla morte improvvisa, gran parata del portiere, e adesso ci aspetta la morte improvvisa. Adesso ci sono due gol da recuperare Mauro, sono sotto di due gol adesso, siamo 3 a 3, siamo 3 a 3, ed entrambe le squadre sembrano tranquilli adesso, non è vero Mauro? È 1 a 1 adesso, hanno pareggiato, davvero un tiro da dimenticare, vero Mauro? La proprio sprecata, vero Mauro? Fuori sulla destra, calciato fuori sulla destra, fuori sulla sinistra, calciato fuori sulla sinistra, golden goal! Sì! È dentro! Golden goal! Golden goal! È finita! Golden goal! È dentro! Drammatico epilogo grazie a un golden goal! E ce l'hanno fatta! È un golden goal! È dentro! Raddoppio! Ha segnato! Raddoppio! Sì! È dentro! Raddoppio! È dentro! Terzo gol per loro! Ha segnato! Terzo gol messo a segno! Sì! È dentro! E siamo a 3! Dentro! Poker per loro! Ha segnato! Quarto gol per loro! Sì! È dentro! Quarto gol per loro! Incredibile! È il loro quinto gol! Un altro gol! È la loro quinta rete! Sì! È dentro! Cinquina! Ed è dentro! Hanno pareggiato! È dentro! Hanno pareggiato! Sì! Ha messo a segno il gol del pareggio! Sì! Pareggio! Eccolo! E hanno pareggiato ancora una volta! Gol! Straordinario! Ed è! Ma tocca a me, Mauro! È dentro! Un gran tiro di destro! Gol! Un bellissimo destro! Ed è dentro! Un grandissimo gol di destro! È dentro! Un gran sinistro! Gol! Un bellissimo sinistro! Ed è dentro! Uno splendido gol di sinistro! È dentro! Che colpo di testa! Ed è un magnifico colpo di testa! È dentro! Colpo di testa! Sì! Ce l'ha fatta! Gol! Ed è dentro! Dentro! È gol! Gol! È dentro! È dentro! Ancora! È dentro! Gol! Ed è rete! Gol! Oh! Che gol! È dentro! Dentro! Fantastico! È dentro! Ce l'ha fatta! Che gol! Che realizzazione! Ha segnato! Ha segnato! La messa dentro! Oh! È dentro! Che gol! Un magnifico gol! Uno splendido gol! Straordinaria esecuzione! Che fantastica conclusione! Gol! Eccezionale! Fantastico gol! Incredibile gol! Gol! Straordinario gol! L'ha colpita meravigliosamente! Rimarrà nei nostri occhi a lungo! Ed è dentro! Oh! Che gol! Sì! Davvero bello! Splendida esecuzione! Questo è un gran gol! Gol! Oh! È entrata! Ha segnato! Nei primi minuti del primo tempo! Nei minuti iniziali del primo tempo! Incredibile! Un gol arrivato prestissimo! Decimo minuto di gioco! Quindici i minuti giocati! Ventesimo minuto di gioco! Venticinque minuti giocati! Trenta minuti giocati! Dieci minuti al termine del primo tempo! Cinque minuti al termine del primo tempo! Nei minuti finali del primo tempo! Appena prima del fischio finale del primo tempo! Appena prima del riposo! Nei minuti di recupero del primo tempo! Nei primi minuti del secondo tempo! Appena dopo il rientro in campo! Il secondo tempo è appena cominciato! Dieci minuti giocati nella seconda frazione! Sessantesimo minuto di gioco! Sessantacinque minuti giocati! Settanta minuti della partita se ne sono andati! Trenta minuti giocati nel secondo tempo! Dieci minuti alla fine! Appena cinque minuti alla fine! Nei minuti finali del secondo tempo! A pochi spiccioli dalla fine! Nei minuti finali della partita! In recupero! Nei primi istanti del supplementare! Nei primi minuti del supplementare! Nel primo tempo supplementare! Appena prima della fine del primo tempo supplementare! Nei primi minuti del secondo tempo supplementare! Appena dopo l'inizio del secondo tempo supplementare! Nel secondo tempo supplementare! Nei minuti finali del secondo tempo supplementare Appena prima del fischio finale del secondo tempo supplementare Nei minuti finali del supplementare Hanno segnato un gol prestissimo Sono andati subito in vantaggio Aprono le marcature con un gol immediato Appena dopo il fischio d'inizio Che meravigliosa partenza Non avremmo potuto immaginare un inizio migliore Che inizio incredibile Beh direi che sono scattati fuori dai blocchi molto presto in questa occasione Che inizio Non hanno perso tempo qui Straordinaria partenza Questo è il migliore inizio che mi sarei potuto immaginare Oh hanno iniziato la partita nel migliore dei modi Hanno segnato quello che potrebbe essere benissimo il gol decisivo Finalmente hanno rotto l'equilibrio Aprono le marcature con un gol segnato nell'ultima parte dell'incontro Potrebbe decidere l'incontro Un gol decisivo in un momento cruciale dell'incontro Hanno subito Quello che potrebbe essere il gol decisivo dell'incontro Hanno subito un gol negli ultimi minuti dell'incontro Sono andati sotto di un gol e non c'è più troppo tempo per pareggiare Hanno subito un gol nel momento cruciale dell'incontro Hanno tenuto duro fino a questo momento ma adesso hanno ceduto Alla fine sono riusciti a spezzare l'equilibrio Hanno finalmente aperto le marcature Questo potrebbe essere il vantaggio che stavano cercando proprio nella seconda parte della partita Hanno subito il primo gol quando non manca molto alla fine di questa prima partita Hanno lottato duramente ma sono indietro di un gol Beh, devono recuperare nella seconda partita Hanno trovato il gol del pareggio dopo il silver gol Fino all'ultimo respiro Ce l'hanno fatta Hanno segnato il gol di cui avevano proprio bisogno Che spettacolare colpo di coda Erano a pochi minuti da una vittoria certa e hanno gettato via il loro vantaggio Hanno permesso loro di rientrare nel match Il silver gol ha fatto perdere loro la brillantezza Hanno subito il pareggio Che botta tremenda Hanno segnato il primo gol Hanno aperto le marcature Hanno rotto l'equilibrio Questo è il gol che apre le marcature Questo è il loro primo gol dell'incontro È il primo gol dell'incontro È il gol che apre le marcature Ecco chi apre le marcature Sono in vantaggio Sono passati in vantaggio Conducono di un gol Sono avanti Questo li pone in vantaggio Hanno pareggiato Sono tornati in parità Sono tornati in situazione di parità Hanno raggiunto il pareggio Sono tornati sul punteggio di parità grazie a un bel gol Ecco il pareggio È pareggio Il gol li lancia in una situazione di parità Ha firmato il pareggio È un pareggio da sottolineare Ed è il pareggio È arrivato il pareggio Di nuovo tutto in equilibrio Sono tornati in situazione di parità Ecco la parità Li ha condotti al pareggio Sono rientrati in partita Siamo tornati in una situazione di equilibrio Tutto in equilibrio Situazione di parità Hanno subito il pareggio Sono stati raggiunti Hanno perso il vantaggio Hanno gettato via il vantaggio Non ce l'hanno fatta a resistere Hanno concesso il pareggio Sono tornati avanti Hanno recuperato un'altra volta Sono tornati a condurre Sono andati in vantaggio con un tiro magnifico Hanno dato alla gente la possibilità di urlare la propria gioia Sono in vantaggio Sono in vantaggio Hanno cambiato le cose E i loro tifosi sono davvero al settimo cielo Finalmente sono riusciti a ribaltare il risultato Sono andati in vantaggio alla fine Finalmente sono andati in vantaggio Verdetto capovolto E adesso è il loro momento Sono andati in vantaggio È il loro momento nella partita Che stravolgimento incredibile Che colpo di scena Sono andati in vantaggio Sono avanti per la prima volta quest'oggi Incredibile Questa è una rimonta strepitosa Sembra proprio che stiano gettando le ortiche una partita vinta Erano in vantaggio Adesso sono sotto Non riescono a crederci Hanno buttato via il vantaggio Dopo essere stati avanti Adesso sono sotto di un gol Dal vantaggio Sono passati ad essere sotto di un gol Hanno gettato via il vantaggio alla fine Sono tornati avanti Si sono portati in vantaggio ancora una volta Sono tornati a condurre ancora una volta Conduco nel match ancora una volta Sono tornati in vantaggio Sono tornati in vantaggio ancora una volta Stanno vincendo la partita ancora una volta Hanno saputo sfruttare il momento giusto Per rientrare in partita e portarsi in vantaggio Sono avanti ancora Sono tornati nuovamente in vantaggio Sono tornati in vantaggio ancora una volta Sono sotto di un gol ancora una volta Sono sotto di un gol Nuovamente sotto Questo li mette in una posizione di assoluto dominio Questo dà loro un vantaggio a dir poco rassicurante e questo li pone in una situazione di assoluto predominio e questo dà loro un vantaggio rassicurante, questo aumenta il loro vantaggio, adesso hanno un vantaggio rassicurante, sono in completo controllo dell'incontro adesso, sono in una posizione di chiaro vantaggio, vendemmia di gol. Non smettono di segnare, sicuramente a questo punto non possono proprio perdere, a questo punto possono andare in scioltezza, sono in completo controllo, è difficile che adesso buttino via la partita, sono ormai sepolti sotto una valanga di gol adesso, hanno subito una disfatta, le cose si stanno mettendo davvero male adesso per loro, hanno ridotto lo svantaggio a un solo gol, adesso hanno la possibilità di cercare di pareggiare, hanno ridotto lo svantaggio a un unico gol, adesso sono sotto di un gol. Ancora un gol e il risultato tornerà in parità, sono sotto di un gol, adesso sono sotto di un solo gol, questo gol li riporta in partita, sono rientrati in partita, hanno ridotto lo svantaggio di un gol, ma hanno ancora molto da fare se vogliono rientrare veramente in partita. Hanno ridotto lo svantaggio a due gol, hanno ridotto lo svantaggio, ma hanno bisogno di un vero miracolo per farcela, hanno segnato, ma per il momento mi sembra soltanto un contentino, adesso sono sotto di due gol, adesso sono indietro di due gol, e hanno ridotto lo svantaggio a tre gol, e hanno ridotto lo svantaggio a quattro gol, è il loro secondo gol, è il loro terzo gol, è il loro quarto gol, è il loro quinto gol.